Una meritatissima vittoria per l'Amazon dell'Aeronautica Militare Giulia Martirengo Marchè con il suo fido compagno di gara seguita dal Massimo Grossato del gruppo sportivo dei Carabinieri e infine Giuseppe Rolli tutti e tre devo dire hanno disputato una bellissima gara, il campo, il posto è meraviglioso quindi siamo veramente soddisfatti sia per la prestazione agonistica ma anche per l'ospitalità che ci ha riservato l'Alo Novo nel cinquantesimo anniversario del circo ippico Le Sirepi di Cervia. Tre cavalieri hanno staccato il pass per Piazza di Siena quindi vedremo sicuramente Giulia Martirengo Marchè, Massimo Grossato e Giuseppe Rolli a Piazza di Siena l'ultimo weekend di maggio.